Musica Picco di accessi nei pronti soccorso della Liguria alla Spezia, 1100 visite della Guardia Medica tra il 24 e il 31 dicembre. Musica Nuovi sacchetti per la vendita dei prodotti alimentari tra sostenibilità ambientale e aumenti sulla spesa. 110 anni di vita per la Polizia Ferroviaria, il bilancio dell'attività in Liguria. Lo Stato dell'Ambiente nella Regione Liguria ha presentato uno studio di ARPAL. Al Via, venerdì 5 gennaio, ai saldi invernali i consigli per essere informati sui diritti dei consumatori. Musica E buonasera e ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con le notizie del TLS giornale. Si è tenuta oggi nella sede di Alisa la riunione dei Dipartimenti Interaziendali Regionali della Liguria del sistema dell'emergenza per fare il punto sulla situazione in questi giorni di festa. In Liguria i pronto soccorso durante le festività hanno registrato un picco di accessi dovuto all'arrivo in anticipo dell'influenza, in coincidenza con molti casi di polmoniti. Un andamento in anticipo di almeno un mese rispetto a quanto accaduto negli anni precedenti. Nel territorio spezzino la situazione non è stata critica, ma dai dati pervenuti dall'ASL 5 sono stati circa 1.100 le visite domiciliarie della Guardia Medica effettuate dal 24 al 31 dicembre. I controlli della Guardia Costiera Spezzina durante le festività natalizie hanno portato a sanzioni per oltre 30.000 euro. La catena operativa disposta dalla Capitaneria di Porto della Spezza sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Liguria ha visto l'impiego di diverse squadre ed ha permesso di effettuare più di 80 controlli lungo l'intera filiera commerciale e di avere sanzioni amministrative ponendo sotto sequestro 30 kg di prodotto ittico che altrimenti sarebbe finito sulle tavole dei consumatori. Tra le violazioni accertate l'inosservanza delle norme sulla tracciabilità del pescato, sull'etichettatura oltre che quelle inerenti al mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare con particolare riferimento all'esposizione dei prodotti ittici oltre la data di scadenza prevista. Diverse anche le violazioni riscontrate in mare che hanno portato ad elevare sanzioni amministrative per un totale di 12.000 euro. Tra i casi più frequenti l'esercizio della pesca recreativa in zona non consentita con il conseguenze sequestro degli attrezzi utilizzati e del pescato. E cambiamo argomento, nuove disposizioni in vigore prevedono novità sulla commercializzazione delle buste di plastica biodegradabili e dal 1 gennaio obbligano il pagamento dei sacchetti. Il tema è oggetto di discussione soprattutto per i costi che ricadono sui consumatori. Per noi il nostro servizio. Cosa comporta l'adempimento di queste nuove norme soprattutto dal punto di vista del consumatore? Una premessa, c'è una questione di carattere ambientale che sarebbe pregiudizialmente da accantonare sbagliato nel senso che vediamo i danni all'ambiente che vengono procurati dalle materie, plastiche e quant'altro per cui insomma da questo punto di vista attenzione massima. Detto questo, come premessa c'è un problema del costo a carico del consumatore. È chiaro che insomma non si tratta di cifre importanti in assoluto, però gli aumenti pure piccoli continuano sempre a proliferare a scapito anche dei costi che deve sopportare il consumatore. Quali sono le soluzioni secondo lei che potevano essere introdotte rispetto anche a queste nuove disposizioni? Ma più che soluzioni c'è tutta una speranza, una speranza nel senso che c'è la possibilità nel tempo quando questi danni all'ambiente verranno comunque ridotti, con queste innovazioni che non sarà solo quella ma anche altre, quando pagheremo la tassa su rifiuti nei prossimi anni c'è l'auspicio, mi rendo conto che è un discorso un po' a lunga scadenza, ci sia come dire un ritorno di tariffe per gli consumatori per i cittadini meno nerose. D'altro canto sarebbe possibile fare, come ho visto da qualche parte anche in Svizzera, poter usare delle piccole cestine in fibra riutilizzabile e lavabile per cui il consumatore usa queste piccole retine di plastica possibile, riutilizzabile in cui vengono appiccicati i vari acquisti fatti con le targhettine, vengono pagate uno la porta a casa, la può rilavare tranquillamente e riusare. È una soluzione che permetterebbe di evitare i costi per tutti, sì perché deve produrle, i nuovi sacchetti di plastica che deve vendere, il consumatore che deve acquistare. È chiaro che ci vuole una disposizione legislativa che permetta di fare quello che già da qualche altra parte si sta facendo sarebbe una soluzione in dolore, teoricamente un acquisto iniziale e poi dopo una permanenza nel tempo per il riutilizzo, la lavabilità della classica retina che magari può sembrare un ritorno ai vecchi tempi, però in questo caso eviterebbe di dover far spendere qualche soldo sull'immediato. E in merito alle nuove disposizioni per la commercializzazione delle borse di plastica interviene anche la CNA della Spezia, la nuova disciplina punta ad un'importante riduzione dell'utilizzo dei sacchetti di plastica, una finalità dal punto di vista della sostenibilità ambientale che non può che essere condivisibile, commenta Carola Baruzzo, referente sindacale della CNA. Tuttavia non possiamo non sottolineare che tale disposizione rappresentano al momento per le piccole e medie prese una complicazione e un onere aggiuntivo. Anche l'area fiscale di Confartigianato interviene sul tema, il divieto di distribuzione gratuita farà emergere la necessità di evidenziare distintamente il prezzo di vendita nei documenti fiscali emessi nei confronti dei clienti, laddove venga ceduta una borsa di plastica della spesa. In conseguenza di ciò sarà necessario adeguare il registratore di cassa e prevedere un reparto riservato alle suddette operazioni. Cambiamo argomento. 110 anni di vita per la Polizia Ferroviaria e il bilancio dell'attività in Liguria durante l'arco dell'anno sono stati scortati complessivamente 2067 convogli ferroviari. Vediamo il servizio di Sergio Diofili. Quello appena trascorso è stato un anno intenso per la Polizia Ferroviaria Ligure, il numero 110 dalla sua fondazione, che ha svolto la propria attività di controllo all'interno delle stazioni e sui treni per garantire la sicurezza dei viaggiatori. Durante l'arco dell'anno sono state impiegate oltre 11.800 pattugli in stazione e più di 1.100 a bordo treno. Sono stati inoltre predisposti un migliaio di servizi in borghese sia negli scali che sui convogli e 25 pattuglioni straordinari in fasce orarie diverse di volta in volta individuate. Grazie a ciò sono state arrestate 45 persone, oltre a 375 indagate in stato di libertà e svolti oltre 41.000 controlli, di cui quasi 3.000 effettuati a bordo treno. All'interno delle stazioni ferroviarie e sui treni vengono spesso ritrovate persone scomparse, in larga misura minori, ma anche soggetti affetti da varie patologie che comportano la perdita di orientamento. In tutte queste circostanze la Polizia Ferroviaria ha rassicurato le persone con professionalità e sensibilità, le ha rifocillate e consegnate ai familiari o alle strutture deputate alla loro assistenza. Sono stati in tutto 72 i minori rintracciati durante l'anno appena trascorso, di cui 47 gli stranieri. Sono state dedicate 12 giornate a livello regionale al controllo passeggeri e bagagli denominate operazioni stazioni sicure, ricorrendo a sofisticate strumentazioni tecniche e all'ausilio delle unità cinofile. Non si è registrato alcun furto di rame a pregiudizio della circolazione ferroviaria, mentre sono state dedicate a questa priorità otto giornate denominate oro rosso. Analogamente sono state dedicate 11 giornate finalizzate al contrasto dei comportamenti impropri contro l'indebita presenza sulla sede ferroviaria e l'attraversamento dei binari, atteggiamenti molto pericolosi riscontrati spesso tra i giovani. A riguardo sono state elevate 357 contravenzioni. Attraverso il progetto Train to be cool, gli operatori della polizia ferroviaria infine hanno incontrato nell'anno appena trascorso oltre 1.500 studenti viguri. Una fotografia della provincia spezzina dal punto di vista ambientale che delinea aspetti rilevanti in merito all'inquinamento atmosferico e ai rischi alluvionali. È quanto emerge dalla relazione sullo stato dell'ambiente in Liguria curata dalla Vice Direzione Generale Ambiente della Regione e da ARPAL. Per noi il servizio di Jacopo ci dà le. Una fotografia dell'ambiente ligure per verificare cosa è migliorato e quali sono gli aspetti invece da migliorare. Questo è il contenuto della relazione sullo stato dell'ambiente in Liguria curata da Regione e ARPAL. L'obiettivo è presentare informazioni scientificamente rigorose e nello stesso tempo di facile lettura anche per un pubblico non specialistico. Dalla relazione emerge che a fronte di un trend in diminuzione delle emissioni in atmosfera per tutti i principali inquinanti, le centraline registrano ancora qualche criticità in relazione alla qualità dell'aria. L'inquinante maggiormente critico risulta essere ancora il biossido di azoto, il cui valore limite sulla media annuale risulta superato a Genova in molte stazioni e nel 2016 di nuovo anche alla Spezia in una stazione. Le fonti su cui agire con priorità sono il traffico urbano, gli impianti termici civili e le navi in stazionamento nei porti. Agire su queste fonti e sul risparmio energetico, in particolare degli edifici, può contribuire anche alla diminuzione delle emissioni di CO2. Sul fronte della gestione dei rifiuti continua la tendenza al calo della produzione complessiva di rifiuti urbani sul territorio, che si attesta a circa 847.000 tonnellate. Nel complesso cala significativamente il rifiuto destinato allo smaltimento, mentre cresce il differenziato e avviato a recupero. L'ecosistema costiero è generalmente in salute, con tutti gli indicatori biologici esaminati in condizioni almeno sufficiente ed una grande maggioranza in stato almeno buono, con tendenza al miglioramento confermata dai dati di monitoraggio 2014-2016. Per quanto riguarda la difesa del suolo, gli studi condotti per la direttiva alluvioni hanno permesso di affinare nel corso del 2015 le stime relative alla percentuale di popolazione residenti in aree innondabili. Per quanto riguarda la nostra provincia, la popolazione a rischio supera il 60% nei comuni di Amelia e Brugnato. La Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Rigule Orientale, Carla Roncallo, ha incontrato i nonneggiatori con conducente di Confartigianato e CNA, un'occasione per toccare temi importanti per il futuro dello sviluppo croceristico. Vediamo il servizio e le immagini sono di Davide Morina. Sono tanti i temi trattati nell'incontro tra la Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Rigule Orientale e i nonneggiatori con conducente di Confartigianato e CNA e guardano al consolidamento del turismo croceristico. Toccano obbligatoriamente temi attuali, quali l'uscita da parte del sistema portuale, uscita dal Consorzio Discover e la prospettiva per la stagione 2018 di fare a fine gennaio una gara ponte per la gestione del terminal crociere dei servizi alle compagnie. Solo dopo l'estate verrà fatto un secondo bando di gara per l'affidamento della concessione. Sul piatto anche il progetto di Royal Caribbean e MSC Crociere, volto alla presa in carico dei servizi al comparto croceristico, nonché per la realizzazione e la gestione della nuova stazione marittima. Interventi di svariati milioni di euro che confermano l'attenzione per il settore, accolti positivamente da realtà che grazie al turismo lavorano. Rappresentiamo una quindicina di aziende con una cinquantina di dipendenti e quindi siamo una cosa importante per quanto riguarda la zona. E speriamo che con l'andare del tempo e le evoluzioni che avrà il porto di avere una possibilità, di avere uno spazio, di avere la possibilità di poter mantenere il lavoro che abbiamo creato fino ad oggi, sia per noi, sia per la gente che facciamo lavorare e sia anche per il territorio, perché comunque vada, portiamo turisti nell'ambito territoriale. Una rassicurazione dunque anche per chi lavora nell'indotto portato dalla presenza delle navi da crociere è una conferma per gli operatori di non avere intoppi. Alcuni in topo, anzi nel 2019 i traffici aumenteranno considerevolmente, sfiorando il milione di passeggeri. Impegni determinanti per il comparto del noleggio con conducente che ha recuperato forze grazie al turismo. Le aziende locali hanno avuto dei problemi, diciamo più che problemi, hanno avuto delle politiche di spending review per cui hanno tagliato i costi di trasporto e quindi di fatto è venuta a mancare una parte molto forte del nostro mercato che è venuta parzialmente ad essere compensata dal turismo. I saldi sono alle porte, inizieranno infatti venerdì 5 gennaio. Tante famiglie attendono questo momento per fare degli acquisti e comprare a prezzi scontati, ma è necessario essere informati sui propri diritti da consumatori. Sentiamo i consigli nell'intervista a Elisabetta Somovigo di Adoc. Siamo alla vigilia dei saldi. I soliti consigli per appunto comprare bene? Ecco, il capo in saldo deve avere, e io non mi stancherò mai di dirlo, deve avere il prezzo di partenza, che non deve essere un prezzo scritto a penna, ma deve essere proprio il prezzo del cartellino o di lestino. Quindi va bene anche il prezzo scritto a penna, ma non ci deve essere solo quello. Io devo avere il prezzo del cartellino e deve essere evidenziata la percentuale di sconto. In saldo non possono andarci rimanenze di magazzino o delle stagioni precedenti, ma unicamente di questa stagione. Ed eventualmente, se ci sono dei capi che il venditore non vuole mettere in saldo, questi capi devono essere ben distinti dai capi invece che sono scontati. L'appuntamento dei saldi è un appuntamento sempre più atteso anche dalle famiglie, perché con tutti i consumi che aumentano risparmiare dei soldi per gli acquisti è sempre una cosa favorevole. Ma ci sono dei consigli che si possono dare, soprattutto in relazione ai propri diritti? Sì, assolutamente sì. E noi dobbiamo essere a conoscenza che qualunque oggetto che noi compriamo in saldo è sempre coperto dalla garanzia biennale garantita dal codice di consumo. Ed è vero che noi troviamo esposti in molti esercizi commerciali che la merce in saldo non si cambia. Non si cambia ma si è priva di difetti. Quindi nel caso per esempio del capo di ebbegliamento direi che noi dobbiamo fare un acquisto accorto, cioè dobbiamo, laddove il negoziante non permette l'industriabilità, la prova del capo, dobbiamo quindi essere sicuri dell'acquisto che facciamo e quindi che non stiamo sbagliando ad esempio taglia, però dobbiamo essere anche consapevoli che in realtà noi anche il capo di ebbegliamento se ci accorgiamo che ha dei difetti di conformità possiamo comunque cambiarlo. E in merito agli acquisti online? Ecco, i consigli sono quelli che noi solitamente diamo per gli acquisti online in generale, quindi valgono per tutto l'anno. Quindi comprare dai siti ufficiali o comunque da siti attendibili, cosiddetti siti sicuri, e comunque cercare di evitare di pagare attraverso banco o matto carta di credito, ma soltanto o con contrassegno o con carte prepagate, che noi quindi carichiamo dell'importo che ci necessita per effettuare quell'acquisto specifico. Il progetto tra i parchi di mare e di montagna promosso sul territorio dell'associazione Mangia Trekking non si ferma e prosegue toccando alcuni tratti delle antiche vie del sale, tra il mare e il suo entroterra, tra la spezza e le cinque terre. Proprio in questi giorni Mangia Trekking ha iniziato ad apporre sul territorio la nuova ed artigianale segnaletica dei sentieri, realizzata con il legno delle botti provenienti dalle secolari cantine di Ricò del Golpo. Questi elementi di segnatura, che impreziosiscono i luoghi, sono stati creati ed incisi a mano, colorati e sistemati su pali di castagno. A Levanto riapre l'asilo nido Puer Puella, domani avverrà l'inaugurazione della nuova gestione, la presentazione delle attività per l'anno scolastico 2018 e lunedì l'apertura vera e propria. La gestione del nido è affidata tramite convenzione alla cooperativa Gulliver sino al termine dell'anno, dopodiché verranno attuate le procedure previste per ricercare un gestore attraverso un vero e proprio bando. Venerdì 5 gennaio alle ore 21.15 nella chiesa di Santa Lucia di Pugliola avrà luogo il concerto Seguendo la Stella, organizzato dall'Uni 3 di Lerici in collaborazione con la corale San Francesco di Lerici e con la parrocchia di Santa Lucia. Sentiamo di più sull'evento dalle parole degli organizzatori. Un appuntamento venerdì sera nella chiesa di Santa Lucia di Pugliola. In cosa consiste? È un appuntamento che si inserisce nelle manifestazioni natalizie e che fanno parte anche del cartellone del comune di Lerici, promosso dalla Università delle Tre Età di cui io sono presidente e che verrà eseguito dalla corale San Francesco di Lerici che normalmente segue la liturgia e le funzioni liturgiche nella parrocchia di San Francesco di Lerici. Insieme abbiamo preso questa iniziativa con la collaborazione della parrocchia di Pugliola, della chiesa di Santa Lucia, del suo parroco Don Andrea Cappelli, proprio perché vogliamo che l'università della terza età o meglio l'università delle tre età si collochi come un elemento di cultura e di soddisfazione dei bisogni culturali del territorio. Per questo già da alcuni anni portiamo durante il periodo natalizio e anche in altri momenti il nostro contributo a concerti nelle chiese. Lo scorso anno è stata la volta di San Francesco di Lerici e di Tellaro. Quest'anno abbiamo invece scelto prima San Terenzo e in collaborazione con il liceo musicale, con gli allievi del liceo musicale Cardarelli e questa volta invece con la corale San Francesco che è una corale diretta dal maestro Alessandro Carta che si avvale anche della collaborazione dell'organista Liao Giumei che è composta da circa 30 elementi e che opera da quasi 20 anni appunto nel territorio relicino proprio per dare un supporto alle funzioni religiose e poi per partecipare anche ad eventi e a manifestazioni canore soprattutto privilegiando la musica classica. Ripetiamo dove e quando? Dunque l'appuntamento è per le 21 e 15 di venerdì qui 5 la vigilia della Befana e nella chiesa di Santa Lucia di Pugliola con la corale San Francesco diretta appunto dal maestro Alessandro Carta. Vi aspettiamo. E restiamo a Lerici perché è un vero e proprio weekend di eventi, attende la conclusione delle festività natalizie, tante iniziative per gli adulti e per i bambini e anche per i più temerari, un'occasione in più per provare il brivido del cimento invernale. Vediamo il nostro servizio. Lerici, un weekend di tantissime attività, partiamo dal programma per i bambini. Assolutamente sì, sarà un weekend dedicato a loro, avremo già domani pomeriggio, giovedì alle due e mezza al Castello di Lerici l'ultimo degli appuntamenti creativi dedicati ai bambini, laboratorio aspettando la Befana. Sabato 6 gennaio continueranno le iniziative dedicate ai bambini, avremo a Tellaro in Piazza Figoli l'arrivo della Befana, una bellissima iniziativa organizzata dall'Unione Sportiva di Tellaro alle ore 12. Seguiremo poi per tutti i borghi del nostro comune, Pugliola, la Serra, con l'arrivo della Befana che tornerà a tutti i bambini le calze per tutta la mattina e si concluderà a Lerici nel pomeriggio alle 14.30 in Piazza Garibaldi con l'arrivo dei Magi dal mare, l'arrivo della Befana anche, la consegna delle calze per i bambini e la salita del Castello di Lerici, il Castello San Giorgio dove verrà esposta la calza gigante. Non solo appuntamenti per i bambini ma anche degli eventi per gli adulti? Appuntamenti per gli adulti che si svolgeranno tutti al Castello San Giorgio a Lerici che sarà aperto dalle 10 alle 17 ogni giorno fino al 7 di gennaio, domenica 7. Il primo appuntamento lo avremo e sarà quello che chiuderà poi la rassegna di Aspettando Mythos Logos Lerici in Lirica il venerdì 5 alle ore 18 con delle musiche ovviamente liriche curate dal performer Angelo Tonelli e l'associazione Artena. Avremo poi domenica 7 alle ore 15 invece un appuntamento dedicato alle riflessioni sull'arte che sarà propedeutico poi alla premiazione successiva dell'estemporanea di pittura. Sarà decretato un vincitore, chi verrà già giudicato primo avrà un premio di 300 euro, il secondo 200 euro e il terzo classificato di 100 euro. I giurati saranno dei professori, abbiamo il professor Tiziano Campi dell'Università di Brera, la professoressa Monica Nicoli e un grande artista a nostro locale Walter Tacchini. Un consiglio per i bambini? Venite a Lerici a vedere tutti la calza gigante della Befana. Nonostante le temperature fredde del mare non si estingue la voglia di provare appunto il brivido di buttarsi in acqua. Il terzo appuntamento per Lerici? Il terzo appuntamento per Lerici che si svolgerà sabato 6 per l'Epifania nella spiaggia di Sant'Erenzo, alle 10.30 c'è ritrovo, alle 11 c'è il tuffo nelle acque gelide di Sant'Erenzo. Sarà il quinto appuntamento a Sant'Erenzo, il terzo di quest'anno, il primo è stato la Venera Azzurra, il secondo è stato a Tellaro. L'anno scorso c'è stato un centinaio di persone che hanno partecipato, si spera di avere ancora più presenze quest'anno. Il tuffo sarà come diceva alle 11, dopo di che ci sarà un piccolo rinfresco omaggiato dalla gente di Sant'Erenzo dove si potrà degustare focaccia e spumante per gli auguri dell'Epifania. L'acqua è freddissima, l'acqua è 11 gradi, però non ci spaventa, saremo tutti presenti anche noi per un tuffo tutti insieme e aspettiamo tantissima gente. L'amministrazione comunale ricorda che il traffico a Lerici è aperto, il programma completo dell'iniziativa è consultabile sul sito www.lericicost.it. Per il giorno dell'Epifania, sabato 6 gennaio dalle ore 17, il Teatro Civico della Spezia propone un appuntamento alle famiglie e soprattutto ai più piccoli con il musical Il Principe Ranocchio. Lo spettacolo fa parte della rassegna I colori del teatro promossa da Fantoni, associazione culturale, ed è liberamente tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm, con la regia e il libretto di Melina Pellicano con una produzione interamente italiana. Il musical, fin dalla prima scena, appassionerà grandi e piccoli e li condurrà in un mondo magico e divertente, sapendo farli commuovere, divertire, ma anche riflettere sul valore della diversità. Giungiamo in conclusione di Telegiornale con le previsioni del tempo per domani. Sul Mar Ligule permane una debole circolazione depressionaria continua a favorire condizioni di nuvolosità variabile a tratti più consistente. Sulla costa, dunque, sia al mattino che al pomeriggio, nuvolosità variabile. L'umidità sarà su valori medi. I venti saranno tra deboli e moderati, da est e sud-est, su centro e levante. Il mare è molto mosso e agitato da lunga e formata da sud-ovest. Possibili anche colpi di mare. Le temperature usciranno da una minima di 5 gradi e una massima di 12. Questa era la nostra ultima notizia. Io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.